Tavamo in Corsica più di 800 stantari, parte più essendo in Durrudioni sartinesi. Ma a Italia diceremo che il 75% si avvicinano di chi da l'uomo, con uno a due metri fuori terra. Sono i più alti stantari di un maritarraneo. L'uomo è di solito ritangolare. A maggior parte è fatto di granito, ma certi sono di matticcio. L'affare dipende da diologia di un luogo. Una stantara si può trovare sia a spaperza, sia a sol ma in leia con una sepoltura, bancale o tolla, sia in una villa ratta. Senza andare troppo lontani da una classifica specializzata, spiegheremo questi petri alzati in quattro famigli. A petra pisata, petra ficata in tara e basta. A lastra, o stella, petra conturata e fatta a ritangolo po' pisata. A lastra armata, o stella armata, petra conturata, pisata e dotata di un'arma o due. E, infine, o palatino, petra antropomorfa, figurando un'umano, all'uso statula, cui di tale di ugapo e di avaccia, armata o micca. O termo inerigo ferma stantara in tutta a gorziga. Stantara è sinonimo di petrifiga. I gorsani sempre vado una leia tra una stantara e la legenda di un uomo o di una donna petrifigata. Dipoi, a prima scopata di sti petrifigati in tara, uomo rivlete ha uso significato. A petra pisata sarei una petra alzata in memoria d'un avvenimento o d'un antico. A lastra armata, che si trova anche in dimunimenti di l'Itadio bronzo, pari d'essa un emblema. Il palatino può essere una rappresentazione d'un guerriero o d'un capistirpulio. Il nome di palatino rinvia i guerrieri, forse leggendari, di gombati medievali contro i zaragini. Ecco perché si può pensare che i petri alzati a un eulitico e quei dipisati all'Itadio bronzo hanno gli stessi significati. Ma in socca ipotesi. Certi stantari, pari di spaperci, forse perché ho nemmi anche scopata struttura migalittica che le liata. Altri sono un elemento di una villaratta o liata a una sepoltura, bancale o tolla. I villaratti sono un insieme di petri pisati, orientati da un ordo a un sudo, ogni elemento sendo girato verso gli eventi. Pareti i villaratti poni essa fianco a fianco. Soguaggi sempre associati i villaratti a una struttura migalittica. In questi villaratti troviamo istantari semplici, manco stelle, stelle armate e palatini. Poi palatini pare di corrispondere alla volontà dell'artista di figurare un personaggio di rinome, forse un capo di stirpulio. Sono figurati i spadi, il codo e la faccia con poche caratteristiche. Fuor di l'occhi, di un naso e di un bavido, certi volti sono figurati l'arretti e la bocca, sarato o apparta, come se da parlava a Petra. Pareti volti si vede neanche il petto, la scapola, la spina, i gosti o anche la currazza. L'armi presenti si obbedica con i sciutti. Si poveda una spada, un pugnale o anche due a tempo. Gli stessi, gli stessi che l'armi trovi in Corsica ed attate dall'Ità di Rubronzo. Un pochi di istantari di Corsica sono stati alzati in crucivia di l'antichi gamini pastorrecci. Altri hanno dato il suo nome ai Tareni dove è disalzato, campoguardato, barindetto. È un nome significativo assai. Certi stantari si ritrovano aduprati, come a Petra, in costruzioni più recenti, muri, casetti, castelli o iegi. Ammintaremmo che i più vecchi stantari di Corsica sono stati datati di avvinto il quinto millennio, vala di che è di sovieti di sei mila anni. Grazie. 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 Grazie.